E in preparazione un'altra puntata del Medico a Casa Tua, dalla redazione del TG Max. Parleremo con il dottor Arturo Di Girolamo, infettivologo, risk management della ASL numero 2, Lanciano Vasto Chieti, del famigerato coronavirus. Dottor Di Girolamo, cercheremo di spiegare questa diffusione di un virus nuovo. Poi farò in modo che lei parli anche delle mascherine. Sì, parleremo di tutto, perché intanto è importante, e questo credo sia un argomento in questo momento molto importante, perché porta con sé una serie di dubbi e di incertezze anche su che cosa sia il coronavirus veramente, quale sia la sua reale pericolosità e quali sono anche le cose che si stanno facendo per poterne in qualche modo avere ragione nel più breve tempo possibile. Quindi direi che tra l'altro poi trattandosi di un virus nuovo è importante riuscire a capire bene di che cosa si tratta. Si vede tanta paura in giro anche. Subito una curiosità da parte mia, dottor Di Girolamo, lei mette o metterà la mascherina? Io non metterò la mascherina sicuramente camminando per la strada, metterò la mascherina se dovessi trovarmi a, in qualche modo, curare o assistere una persona con un'infezione da coronavirus, così come lo farei con una persona con altre infezioni, alcune infezioni delle vie respiratorie. Quindi la mascherina va riservata solo ad ambiti, secondo me, professionali o assistenziali o anche non professionali, perché uno può anche assistere non essendo un operatore sanitario, una persona con un'infezione respiratoria. Ma al di là di questo, girare con la mascherina semplicemente per pensare di proteggersi lungo la strada è assolutamente inutile in questo momento. E allora, speciale coronavirus sarà l'argomento della puntata del Medico a casa tua in onda mercoledì alle ore 20 e giovedì alle 21 e 15, poi altre repliche successive su Telemax. Vi aspettiamo con il dottore infettivologo Arturo Di Girolamo.